Cari amici, il tema che oggi vorrei approfondire è di fondamentale importanza e è un tema diciamo che è all'olio del giorno dei messaggi della religione della pace fin dall'inizio delle apparizioni e lo è oggi più che mai, ed è il tema appunto della verità. La verità ha detto alla Madonna nell'ultimo messaggio che ha dato Mirjana con cui ha concluso i messaggi del 2 del mese che sono rivolti in modo particolare ai non credenti con la verità ha detto alla Madonna che è eterna, che non cambia mai, che è sempre attuale. Sappiamo come specialmente negli ultimi anni la Madonna abbia sviluppato questo tema della verità direi che sono due i temi diciamo così che ricorrono continuamente nei messaggi della religione della pace e specialmente quelli del 2 del mese cioè la verità, l'amore e poi ovviamente la testimonianza cioè dobbiamo camminare nella luce della verità, dobbiamo vivere l'amore nei nostri cuori e dobbiamo testimoniare sia la verità sia l'amore a quelli che non lo conoscono. Dunque cari amici, questo tema è di fondamentale importanza perché molte volte bisogna anche cogliere i segni, i segni dei quotidiani che poi sono sogni dei tempi che viviamo proprio nel momento in cui la Madonna dava questo messaggio a Mirjana e poi subito dopo il 2 marzo poi il 4 maggio la Madonna riprendeva nel messaggio dato a Ivan col quale ci invitava a ringraziamento quindi in qualche modo era uno spazio di luce su questa prova che stiamo vivendo e la Madonna ha ripreso il messaggio di Mirjana, l'ha riproposto a Ivan con qualche piccola variazione la Madonna fa spesso questi richiami dei messaggi perché ovviamente quando specialmente sono importanti non vuole che ce li dimentichiamo insomma se la Madonna ripete perché nella nostra mente molte volte passa il ruscello che porta via tutti i ricordi e ci dimentichiamo delle cose più importanti e ho notato cari amici che proprio quando è uscito questo fortissimo messaggio della Madonna e poi ripreso da Ivan quando appunto il 4 maggio la Madonna ha detto rivolgendoci a noi cerco da voi che ammiate e che diffondiate la verità poiché la verità è eterna, è immutabile, è sempre attuale e poi ha soggiunto la Madonna per chiarire ancora meglio cos'è questa verità portate la luce di mio figlio così in tal modo distruggerete le tenebre che sempre più vogliono afferrarvi e portarvi lontano da mio figlio Gesù nel mettesimo tempo cari amici usciva in Germania in tedesco una biografia del Papa in merito Brevetto XVI a cura del suo biografo ormai ufficiale diciamo Peter Seewald e alla fine del libro c'era un'intervista fatta a Brevetto XVI lo scorso autunno quindi non molto tempo fa dove Brevetto XVI parlava esplicitamente dell'anticristo parlava dei segni dell'anticristo nella nostra società e poi aggiungeva che ormai noi eravamo arrivati a ripudio dalla verità cioè dalla verità evangelica di quella verità che è Cristo stesso che ha detto io sono la via la verità e la vita e ha detto Brevetto XVI che al posto della verità cristiana noi che abbiamo ripudiato noi abbiamo accolto un credo avevo svolto abbiamo formulato un credo anticristico questa è proprio l'espressione fortissima di Brevetto XVI che a mio parere fa epoca perché ovviamente Brevetto XVI aveva esordito come vi ricordate il suo pontificato citando quel brano di San Paolo che riguardava appunto che siamo come cani sbattute dal vento che rincorrono in un risoffio di dottrina per quanto eterogenea e per quanto lontana dalla verità essa sia e poi aveva parlato Brevetto XVI della dittatura del relativismo dell'abbandono della verità quindi proseguiva diciamo con l'analisi che aveva incominciato San Giovanni Paolo II parlano di apostasia silenziosa e è arrivato alla fine Brevetto XVI a parlare esplicitamente di un credo anticristico al posto della verità allora noi cari amici abbiamo chi segue i messaggi della Regina della Pace sa che il tema della verità fin dalle prime battute delle sue apparizioni quando appunto la Madonna, vi ricordate, recitava il credo con i veggenti faceva recitare il credo con i veggenti, ha fatto recitare il credo prima del Santo Rosario dice Visca che secondo lei la Madonna disse una volta che la preghiera che a lei piace di più è il credo ciò non tolgo nulla a Santo Rosario che è un'altra cosa cari amici e la Madonna dice Visca recitava il credo con una fervore inimmaginabile e uno dei suoi primi messaggi quando appunto una veggente gli ha chiesto cosa devono fare i nostri sacerdoti e la Madonna disse che devono proteggere la fede e noi sappiamo che in tutti questi ormai 39 anni delle apparizioni la Madonna non ha fatto che sviluppare tutta la verità della fede cristiana che sappiamo ha un suo cuore, il cuore è Cristo stesso che è la verità, quindi il Vangelo, le parole di Cristo ma poi tutto il deposito della fede è stato oggetto della catechesi della Madonna e chi ha seguito i messaggi non solo sa che la Madonna ha mai detto nessuna parola che in qualche modo fosse lontana dalla verità tutti i suoi messaggi, appunto dicono che i suoi messaggi sono tanti e proprio perché sono tanti non c'è mai una sola volta che la Madonna in ogni sua parola non faccia risplendere la potenza della verità rivelata e alla fine appunto, alla fine la Madonna stessa ci ha, accometandosi da Miriana, in qualche modo ci ha lasciato un testamento e cioè la verità è eterna, non cambia mai accoglietela, diffondetela, testimoniatela bene cari amici, allora noi ci domandiamo che cos'è questa verità questa verità cari amici è una sola verità cos'è questa verità che è eterna, che non cambia mai che è sempre attuale che è eterno come è eterna Dio che è una luce che illumina che cos'è questa verità cari amici non è una verità umana non è una verità che hanno elaborato gli uomini gli uomini hanno elaborato nel corso della storia le loro verità e anche le religioni umane sono tutte verità elaborate dagli uomini come dice la Dominus Iesu sono credenze umane abissalmente diverse dalla verità divina che viene da Dio questa verità cari amici che viene da Dio che è la parola di Dio che è la luce di Dio che è la risposta di Dio ai nostri interrogativi è quella verità che è viva nella Sacra Scrittura per cui la Sacra Scrittura è il libro di Dio è la parola di Dio è ispirata da Dio ogni parola della Sacra Scrittura è voluta da Dio e quindi cari amici noi concretamente questa verità la possiamo leggere nella Sacra Scrittura ma attenzione cari amici che il cristianesimo non è la religione del libro è una religione della persona e quindi questa verità è viva nella persona di Cristo lui è la verità è il verbo e quindi tutta la verità della Scrittura coincide possiamo dire è assimilata è viva nella persona di Cristo uomo Dio e tutte le sue parole sono vita per cui il Vangelo è proprio il cuore della Sacra Scrittura bene cari amici questa è dunque la verità è l'unica verità non esistono altre verità al di fuori di questa cioè potrebbero esistere verità umane come le opinioni in vari campi sappiamo che abbiamo visto anche in questi giorni come la scienza sia una forma di conoscenza che acquisisce conoscenze che man mano si arricchiscono oppure periscono oppure sono superate cioè la conoscenza umana in generale con tutte le sue diciamo dilamazioni nel campo della natura nel campo della storia nella conoscenza dell'uomo e c'è tutta tutta la conoscenza umana è qualcosa che diciamo non sfugge alla logica dell'effimero del passeggero del limitato e dell'errore e in questa categoria cari amici della conoscenza umana possiamo anche mettere le religioni umane le quali ovviamente si pongono su un piano diverso sono orientate alla trascendenza rispondono in qualche modo al bisogno dell'uomo di andare oltre il visibile rispondono anche alla capacità della mente umana di andare oltre le cose che si vedono quindi certamente c'è un afflato di verità di verità religiosa anche nelle religioni ma sono umane non è verità divina questo cari amici dobbiamo averlo ben chiaro solo la Bibbia è parola di Dio non ci sono altre scritture di altre religioni che sono parola di Dio gli altri lo penseranno per loro ma noi non possiamo pensarlo per noi solo la parola di Dio è la sacra scrittura questa verità è viva nella chiesa questa verità di Cristo vivo è il verbo e quindi è la sorgente originaria della verità questa verità è viva nella chiesa che è il suo corpo mistico e la chiesa vive di questa verità è illuminata da questa verità si inute di questa verità che è eterna che non cambia mai cari amici questa è dunque la verità di cui parla la Madonna e noi poi questa verità cari amici che è qualcosa di vivente è una luce viva che illumina e che infonde la vita questa verità poi noi la formuliamo la formuliamo nel credo quando diciamo il credo col cuore la formuliamo nella liturgia della chiesa dove la preghiera alimenta la fede perché nella liturgia della chiesa se noi la seguiamo nella santa messa quotidiana nella sacra scrittura c'è tutta la verità cristiana vissuta pregata che diventa un rapporto con Dio che diventa un dialogo con Dio che diventa un nutrimento diciamo così al rapporto di amore con Dio questa verità cristiana questa verità divina noi cari amici la alimentiamo con le nostre preghiere con le preghiere del mattino della sera provate a dire con calma pensando a quello che dite e vedrete come tutte queste verità annunciano la fede cristiana quindi noi cari amici abbiamo doveva la consapevolezza di questo grande dono che Dio ci ha fatto e cioè la verità che è sua che è lui che è la sua luce e che ci viene donata nella sacra scrittura e che è vivente nella chiesa nella quale vive Cristo nella quale vive la sua parola è che noi cari amici possiamo conoscere ovviamente soprattutto nella preghiera nella liturgia nella lettura della Bibbia e anche ovviamente nell'insegnamento della chiesa in modo particolare nel catechismo della chiesa cattolica la Madonna non ha fatto che alimentare cari amici questa verità in questo tempo in questo tempo ormai di 40 anni quasi dell'apparizione in cui invece abbiamo assistito a un fenomeno totalmente contrario cioè nei paesi di antica cristianità c'è stato un offuscamento graduale continuo della verità cioè ma sta offuscandosi la fede questo molte volte anche per l'inquinamento del cuore perché quando il cuore è inquinato dei beni materiali dalle passioni dalle cupidice dalle superbie ovvio che anche quando il cuore è inquinato cari amici l'occhio si offusca e non vede più la verità per cui noi in tutti questi anni abbiamo perso la fede ma come l'abbiamo persa la fede ma l'abbiamo persa la fede ma guardate la mia generazione la mia generazione è quella che ha perso la fede ha perso la fede in gran parte e neanche l'ha insinato ai suoi figli perché noi abbiamo una generazione che viene dopo che è quasi è di un'onoranza religiosa incredibile ma non solo ha abbandonato la verità cristiana ma anche ha assimilato un vangelo diverso un controvangelo un credo diverso una visione del mondo e della vita nella quale non c'è Dio non c'è il di là non c'è anima immortale non c'è l'uomo immagine di Dio non c'è un uomo che ha una moralità non c'è un uomo che ha una libera volontà noi abbiamo assistito in questi giorni a delle scene televisive a dir poco ridicole che i scienziati di fama vanno in televisione e dire ma noi siamo degli animali cioè voglio dire un po' di cultura bisognerebbe averla perché fino a prova contraria gli animali non c'hanno né l'intelligenza astratta speculativa come l'abbiamo noi non c'hanno la libertà non c'hanno la responsabilità non c'hanno la moralità però noi abbiamo spazzato via tutta quella luce che ci veniva dalla rivina rivelazione e quindi quella luce che illuminava l'esistenza umana si è spenta per cui adesso la gente vive nella tenebre della morte nella tenebre della disperazione è come se camminassero in una foresta senza vie d'uscita come se corressero in un labirinto senza porte senza finestre oscuro senza sapere dove vanno per cui non sanno dove vengono non sanno chi sono non sanno dove vanno non sanno cos'è la morte cosa ci sarà dopo la morte non sanno cos'è il bene non sanno cos'è il male sono credono di essere liberati da quelle che loro chiamano le superstizioni religiose e sono precipitati in un buio totale cioè è impressionante la frase della Madonna che dice state attenti alle tenebre che vi vogliono afferrare cari amici per cui noi adesso i nostri ragazzi anche i nostri giovani che sono perché ormai usciti dalla famiglia da una famiglia cristiana sono alla mercè del credo anticristico sono alla mercè del credo anticristico e quindi non hanno più la luce della vita non sanno anche perché cosa vuol dire vivere perché si vive come si deve vivere non sanno qual è il traguardo della vita sono in balia delle opinioni che cambiano ogni giorno sono in balia delle ideologie che ingannano insomma cari amici nuotano in un mare dal quale non conoscono i confini e vagano qua e là fin quando non affondano questo è dunque quello che è accaduto in questi decenni e cioè che al credo cristiano si è sostituito un credo anticristico e che alla luce del sole è subentrata una notte tenebrosa questa è cari amici l'eclissi è il tempo dell'eclissi della verità e la Madonna è stata qui per così tanto tempo con noi e ha dato i suoi messaggi per impedire che ci fosse il buio totale per fare che ci fossero delle luci qua e là che illuminano ancora il cammino allora cari amici adesso andiamo al cuore del problema cioè questa verità che è Cristo è una verità che non abita in cielo è venuta qui sulla terra e dov'è che è questa verità dove abita questa verità chi è la sede ed è la verità ebbene cari amici la verità abita nella chiesa la chiesa è il grembo nel quale la verità è stata concepita è come il grembo di Maria è stata concepita è cresciuta ed è la come dire ha dato la struttura vitale alla chiesa la verità è questo grembo nella quale è stata concepita è cresciuta e si è sviluppata come un adoro frondoso la chiesa è il tempio della verità dove abita Cristo dove abita lo spirito santo la chiesa è stata definita la colonna della verità cari amici quindi non è che dobbiamo cercare la verità chissà dove e quello che è successo in questi decenni è veramente patetico ma è patetico fino a un certo punto perché tu vedi l'inganno di Satana cioè tu vedi vedi una moltitudine di cristiani che si sono stancati dalla verità si sono stancati dalla luce e fra questi mettiamo anche molti consacrati e che sono andati a cercare la verità dove non c'era nelle ideologie umane nelle opinioni umane nei ritrovati umani nelle altre religioni nelle sette e in tutte quelle forme molte volte quel groviglio di pensieri tenebrosi che esprimono anche quella presenza tenebrosa del menzognero in mezzo a noi quindi noi cari amici la Chiesa perché la Chiesa siamo tutti noi abbiamo in questi decenni lasciando che si non dico spegnere no sarebbe troppo esagerato ma sicuramente che se io offuscasse il deposito della fede abbiamo siamo andati a cercare la verità dove non c'era e in questo modo cari amici invece di essere la luce del mondo siamo diventati anche noi un fumigolo una una candela fumigante un lucino fumigante cari amici allora è chiaro cari amici che la Madonna è venuta proprio per questa situazione proprio di noi cristiani ai quali è stato dato in dono la pienezza della verità che è Cristo stesso che è la parola di Dio ma che noi abbiamo lasciato offuscare abbiamo messo da parte abbiamo seguito dottrine strane ideologie strane qualcosa di incompatibile con la luce che viene da Dio e quindi cari amici abbiamo gravemente mancato nei confronti delle nostre responsabilità che sono quelle cari amici avendo ricevuto la pienezza dalla verità il dovere di custodirla il dovere di approfondirla il dovere di viverla il dovere di conservarla il dovere di diffonderla ma pensate un po' anche a voi stessi cari amici qual è il vostro atteggiamento di fronte alla verità vi siete aperti alla verità divina l'avete accolta nella fede l'avete accolta con amore non l'avete messa in discussione non l'avete messa da parte avete preferito le dottrine mondane che poi sono chiacchiere inutili io mi ricordo che mi sono lavorato in filosofia una delle cose che mi ha sempre colpito nella storia della filosofia è che il filosofo che veniva dopo smentiva quello che veniva prima e si smentivano sempre la vicenda io mi sono detto allora questa è veramente la storia delle idee personali non è la storia della verità la verità cari amici non è che è una produzione umana non è che è l'acquisimento del comitato scientifico mondiale la verità è qualcosa che Dio ci ha dato e per la quale cari amici noi cristiani dobbiamo riscoprire tutta la nostra responsabilità nel conservarla nel viverla nel diffonderla permettete cari amici una breve un piccolo costamento la verità è come l'Eucaristia va adorata va amata va mangiata uguale l'atteggiamento nei confronti della verità divina è come l'atteggiamento di fondo dell'Eucaristia è Cristo stesso la verità come l'Eucaristia è Cristo stesso e quindi il medesimo atteggiamento che abbiamo verso l'Eucaristia dobbiamo averlo verso la verità cioè adorare la verità amare la verità nutrirci della verità continuamente diventare luminosi come è luminosa la verità e diffondere la verità e a questo riguardo e questo può anche il cuore di questa nostra riflessione cari amici a questo riguardo vorrei che noi facessimo un esame di coscienza dobbiamo farlo tutti vi dico subito non cominciamo a puntare il dito qua e là che non serve se c'è una cosa che se c'è una cosa che non serve è puntare il dito la cosa invece che serve è fare esame di coscienza e emendare noi stessi allora facciamo un breve esame di coscienza specialmente noi consacrati e consacrate facciamo un esame di coscienza nei confronti della verità e facciamolo anche sulle parole che la Madonna non ci ha risparmiato perché non poteva risparmiarcene quando ci ha detto che i miei figli nascondono la verità non amano la verità non credono più ha detto cose la Madonna che avrei mai voluto dire ma ha dovuto dirle allora cari amici facciamo facciamoci queste domande tutti quanti specialmente noi consacrati e cioè mettiamoci bene in testa questi punti molto semplici e molto chiari primo non possiamo nascondere la verità la verità rivelata va detta tutta intera anche le verità scomode anzi proprio le verità più scomode vanno dette di più perché già tendiamo noi per nostra natura a rimuoverle quindi non nascondiamo la verità non offuschiamo la verità e qui siamo molto abili nell'offuscarla nel come si dice nel mondanizzarla non ottenere gli sconti sulla verità o la nascondiamo o la offuschiamo ma comunque in ogni caso in ambi i due casi non la tradiamo peggio ancora è quando contaminiamo la verità con l'errore i peggiori abitudini sapete quali sono sono quelli che dicono alcune verità poi mettono detto l'errore perché allora la gente pensa si ma ha detto ha detto queste verità però non si rendono conto e cari amici anche il caffè è buono però se c'è una goccia di arsenico muori e quindi cari amici questa contaminazione della verità è all'ordine del giorno è il gioco dei modernisti che dicono alcune verità di fede poi mettono l'errore che li distrugge tutte mettono il veleno nel cibo buono e la contaminazione della verità che oggi è una pratica una pratica direi sistematica peggio ancora cari amici quando si cambia la verità allora se si cambia la verità andiamo nell'apostasia se si comincia a dire che Gesù Cristo è un profeta non è figlio di Dio scusate è chiaro che qui siamo di fronte a una a un colpo di pugnale al cuore stesso della verità perché la cambiamo cari amici e poi quando si prende questa strada cari amici nel nascondere la verità nell'offuscare la verità nel contaminare la verità nel cambiare la verità allora poi cari amici si arriva a fare quello che ha fatto Giuda si tradisce c'è la verità e quel che è peggio dietro a noi trasciniamo le anime verso la perdizione eterna facciamo bene l'esame di coscienza cari amici perché Gesù ha detto a chi cambierà anche uno solo anche un solo iota delle mie parole verrà condannato e quindi vorrei vorrei dirvi due cose primo fate nella preghiera fate nascere in voi il desiderio di essere fedeli alla verità il desiderio di essere fedeli a tutta la verità che Dio ha rivelato essere fedeli a tutte le verità cristiane senza da dire neanche una e senza smigliare neanche una e poi chiedete specialmente dobbiamo farlo noi consacrati chiedere allo Spirito Santo di conservarci nella verità affinché tutte le volte che parliamo non abbiamo mai o scriviamo o testimoniamo non abbiamo mai per nessun motivo dire qualcosa che sia contrario sia difforme o anche sfiori sfiori appena appena la verità chiedere questa grazia speciale allo Spirito Santo di essere riflessi della verità divina amici e siccome siamo in un momento in cui in cui dilaga l'errore dilaga il credo anticristico specialmente poi guardo la condizione dei nostri figli che nella chiesa nella famiglia hanno poca o nessuna verità di fede in parrocchia sapete che dopo la comunione della chiesa la maggior parte non frequenta più vanno nelle scuole fino all'università mass media la cultura i giornali assorbono totalmente il credo anticristico e vanno sotto il regno di Satana che è il regno della menzogna cari amici cioè quando quando si dice che oggi domina il credo anticristico cosa vuol dire che Satana regna perché Satana è il re della menzogna è il negatore della verità cari amici allora quello che vorrei dire dire questo vorrei dire che noi dobbiamo fare come dire un mea culpa globale noi cristiani che abbiamo abbandonato la fede dobbiamo fare un mea culpa globale cioè pentirci di esserci allontanati da Cristo allontanati da Dio allontanati dal Vangelo allontanati diciamo dai comandamenti allontanati dalla verità cari amici dovevo prendere coscienza di questa grazia che abbiamo che è la verità divina che ci è stata donata abbandonare il progetto diabolico di unificare le religioni come se fossero un'unica religione da questi progetti non può uscire una falsa religione senza dottrina senza comandamenti senza morale questi sono progetti che non vengono da Dio vengono dall'altra parte vengono del maligno non è questa la strada questa è una strada che porta alla perdizione che porta all'autodistruzione cari amici della Chiesa stessa esiste una sola verità quella rivelata quella di cui la Chiesa è depositaria noi dobbiamo ritornare a questa verità dobbiamo riscoprire questa verità dobbiamo piangere per i trattamenti che abbiamo fatto nei confronti di questa verità dobbiamo assimilare questa verità che è la parola di Dio che ci è stata rivelata e dobbiamo viverla dobbiamo viverla e diventare luci che illuminano questo cari amici è un impegno che ci riguarda tutti e non ti direi ma toccherebbe ai preti toccherebbe ai vecchi toccherebbe qua toccherebbe là tocca a tutti tutti dobbiamo essere i servitori della verità rivelata aver ben chiaro cari amici che al di fuori di questa verità ci sono solo le tenebre che vogliono afferrarci come ha detto la Madonna ecco dunque cari amici un piccolo programma di vita ben scandito da assimilare chi ci ha fatto la Madonna ultimamente e cioè amare la verità e quindi la patumiera mondana diamola a chi si vuole nutrire di patumiera amare la verità diciamo difendere la verità cari amici senza paura dobbiamo testimoniare la verità con la parola e con la vita cari amici dobbiamo diffondere la verità a quelli che non la conoscono portare la luce di Cristo la Madonna ha ripetuto tante volte in questi messaggi ultimi portate la luce di mio figlio agli altri diffondere la verità insegnare la verità senza paura e facciamolo in famiglia con i nostri figli nelle parrocchie nelle catechesi ritorniamo a fare le catechesi usiamo anche i mass media per fare le catechesi io vedo troppe mass media troppe iniziative personali usate per combattere la chiesa è sempre meglio usarle per diffondere la verità della chiesa senza far polemiche con nessuno la Madonna ci ha mai detto di criticare questo o quello ci ha detto di amare la verità difenderla testimoniarla diffonderla e insegnamola insegnamola la verità con gioia facendola risplendere perché la verità ha una forza intrinseca cioè una volta che tu l'hai detta che la verità risplende illumina anche quelli che non vogliono vedere e quindi cari amici è così che distruggiamo le tenebre cioè non si distruggono le tenebre con l'astio e con il puntare il dito le tenebre si distruggono accendendo la luce se tu sei in una stanza buia cosa fai per illuminarla ti metti in precario con chi ha spento la luce no se tu sei in una stanza buia accendi la luce quello che devi fare è così che vinci è così che i tenebre non ti afferrano cari amici e quindi questo è il messaggio che vorrei proprio dare oggi è prima di tutto la consapevolezza che c'è una sola religione divina c'è una sola verità divina è quella di cui la chiesa è depositaria la chiesa è una istituzione divina la fondata Cristo in essi vive Cristo in essi vive l'eucaristia in essi vive la sacra scrittura in essi vive la verità noi nella chiesa dobbiamo professare questa verità nutrirci di questa verità insegnare agli altri i nostri fratelli nella fede che sono ancora indietro insegnare loro questa verità e essere la luce del mondo dobbiamo essere la luce del mondo non correre dietro alle ultime ideologie alle ultime mode alle opinioni umane che cambiano continuamente cosa corremo dietro a chi scrive sull'acqua che non rimane niente abbiamo la verità che è eterna che non cambia mai prendiamone coscienza chiediamo la grazia di abbracciarla di viverla di assimilarla di essere i suoi servitori e portiamola a questo mondo che è messo nelle tenebre e nell'ombra della morte cari amici quindi noi non dobbiamo avere paura di niente io sono convinto che qualsiasi persona forse pure una vecchia di 90 anni che dice la verità magari che dice al suo parico guardi il reverendo lei ha detto che l'inferno non c'è che tutti vanno in paradiso no guardi che Gesù Cristo ha detto che l'inferno c'è ecco con la vecchia Italia ha già vinto la sua battaglia è così che bisogna fare cari amici cioè c'è un messaggio della Madonna bellissimo dove la Madonna ha detto che che noi non dobbiamo avere paura di testimolare la verità a un mondo che la odia dice solo la Madonna se voi non avete paura e testimonierete con coraggio la verità se non abbiamo paura paura no coraggio sì se non abbiamo paura e dice ma con coraggio la verità la verità miracolosamente trionferà io vorrei terminare cari amici quindi alla fine questa battaglia non è che sia poi così difficile da vincere dovevo prendere coscienza che il diavolo ci ha ingannato e ci ha vato da mangiare il fieno e il fieno e la paglia ci ha vato da mangiare che sono le opinioni umane che sono le opinioni mondane peggio che peggio ci ha vato da bere l'arsenico che è il credo anticristico prendiamo coscienza di essere stati ingannati chiediamo perdono ritorniamo alla parola di Dio alla verità che Dio ci ha rivelato che la chiesa conserva che deve testimoniare che deve conservare che non deve inquinare che non deve nascondere che non deve tradire forza ragazzi forza facciamo questo perché il mondo è la materia più totale gli uomini non sa più da che parte di girarsi non sanno né chi sono né dove vengono né dove vanno né a cosa serve la vita noi abbiamo questo tesoro di luce e l'abbiamo nascosto in cantina è per quello che il mondo va male abbiamo un esame di coscienza da fare abbiamo una gratitudine da avere verso la Madonna che in tutti questi tempi ci ha tenuti vivi ma adesso è il tempo in cui dobbiamo cari amici come apostoli del suo amore testimonare la sola verità che esiste che è Cristo a tutti quelli che non la conoscono che è il tempo in cui dobbiamo grazie a tutti